Come banca siamo un'impresa di responsabilità sociale dal statuto. La banca di credito cooperativo, nei propri criteri ispiratori, ha l'obiettivo chiaramente di svolgere un ruolo economico e sociale nel territorio, ma c'è proprio l'espresse indicazione di promuovere la crescita responsabile e sostenibile del territorio. Vuol dire sviluppare tutte le varie componenti in maniera armonica, quindi dell'ambiente, del sociale e della governance, per porsi l'obiettivo di creare valore nel tempo nel territorio, quindi non distruggere valore, ma crearlo insieme e anche comunicarlo a tutti gli stakeholders. Le aziende sono le protagoniste, quindi del momento questo di formazione, ma anche di confronto. Ci sono grandi realtà di eccellenze che hanno già intrapreso questa strada. Dobbiamo farlo diventare cultura generale, quindi anche le piccole e medie imprese che fanno parte della filiera di approvvigionamento, ma anche dei privati, delle famiglie. Abbiamo capito da qualche anno che il nostro DNA di sostenibilità, l'approccio al business che avevamo si fittava particolarmente con i tempi e l'evoluzione di questi, quindi abbiamo preso coraggio, abbiamo iniziato a investire sulle nostre competenze, la nostra formazione e un progetto di rendicontazione della sostenibilità del nostro business che ci ha portato già dal 2021 a redigere il primo bilancio di sostenibilità. Nel 2022 abbiamo bissato e siamo anche riusciti ad ottenere la certificazione da parte di un ente terzo del bilancio, quindi siamo molto soddisfatti perché significa che il nostro approccio, il nostro percorso ha valore, ha solidità. Il monitoraggio che è proprio l'altro aspetto importante dell'andare a misurare le performance di sostenibilità ci permette appunto di poter poi mettere in campo le azioni necessarie per gestirla, questa transizione. Comunque sì, siamo soddisfatti perché più dell'80% degli obiettivi sono stati raggiunti in tempo, alcuni li abbiamo anticipati, quindi sostanzialmente il balance complessivo è molto soddisfacente essendo appunto anche il primo anno in cui ci siamo dati questi target. Alcuni anche molto importanti perché hanno una ricaduta sul territorio dove viviamo, dove lavoriamo e quindi ci piace questo rapporto, questa sinergia con l'ambito sociale, con l'ambito ambientale, con gli stakeholder e tutti coloro che collaborano con noi nel raggiungere poi gli obiettivi di miglioramento del posto e del luogo in cui operiamo.